Ci sono dei termini in medicina che sono molto di moda. Uno è disbiosi e l'altro è leaky gut. Disbiosi lo usano probabilmente tutti ormai, avere i batteri non giusti nell'intestino è ormai un concetto passato generalmente sui mass media, tutti ne parlano di questa flora intestinale e forse ne parlano soprattutto quelli che non la conoscono a fondo perché chi si sforza di conoscerla a fondo sa che sono molto più le cose che non sappiamo della complessità della flora intestinale rispetto alle cose che pretendiamo di sapere. Per cui c'è questa grande confusione relativamente a questo argomento anche perché questo argomento muove moltissimo danaro. Per cui i probiotici inducono dei costi sanitari che sono superiori a quelli dei farmaci oncologici per i tumori, tanto per dare un'idea del giro di danaro di cui si sta parlando. Per cui è difficile anche frenare la spinta spesso non supportata da dati scientifici a parlare di disbiosi, alterazioni a flora intestinale e cose del genere. Un po' meno si parla ma si incomincia a parlare di leaky gut, cioè un gut, un intestino che è non permeabile, leaky, lascia passare qualche cosa, è un colabrodo in qualche modo. La barriera mucosa è un organo molto sofisticato che ricopre una superficie di 200 metri quadrati che tutti noi portiamo qui dentro la pancia in un tubo di 6-7 metri nell'adulto che però si apre fino a 200 metri quadrati perché si muove in villi, cripte, microvilli per cui la superficie è molto ampia proprio per permettere un lavoro difficilissimo che è quello dell'assorbimento dei nutrienti. Ma se da un lato questa mucosa deve aiutarci ad assorbire le cose buone fra virgolette ci deve difendere dalle cose cattive. La flora intestinale è un po' buona e un po' cattiva e quella buona ci aiuta sia ad attivare un pochino il sistema immunitario che ci serve questa minima attivazione del sistema immunitario per essere pronti poi a reagire nel caso che una malattia arrivi, dall'altro serve a combattere la flora cattiva per cui all'interno di questo insieme, questo chilo e mezzo di animalini che ci portiamo dentro la pancia non sono tutti buoni, non sono tutti cattivi e la salute in qualche modo deriva dall'equilibrio che si crea fra le varie specie. Le persone sane non sono persone che hanno solo buoni dentro l'intestino, le persone sane sono quelle che hanno una grande diversità di specie batteriche, virali e anche micotiche cioè di funghi che trovano un loro equilibrio e si alternano. Avere un tipo solo o pochi tipi di batteri che prevalgono all'interno della flora intestinale è indice di malattia. Quindi questi due termini usati un pochino a sproposito devono essere oggetti invece di grande attenzione perché a livello della barriera mucosa cioè fra il contenuto intestinale e quello che sta al di sotto della barriera mucosa esiste una continua battaglia se volete, un continuo scambio di informazioni dalla quale deriva la nostra salute e quindi è un argomento da trattare in termini scientifici con grande rispetto, grande attenzione e curando soprattutto i periodi in cui siamo malati nei quali l'impermeabilità di mucosa viene a calare e quindi siamo esposti maggiormente al contatto con i contenuti intestinali non dimentichiamoci che oltre alla flora intestinale dentro l'intestino ci sono residui alimentari e non dimentichiamoci che le allergie stanno esplodendo in questo momento soprattutto nelle nuove generazioni. Quindi ancora una volta la battaglia, lo scontro, lo scambio di informazioni fra il contenuto intestinale e quello che sta sotto la mucosa intestinale che è il più grande sistema immunitario del corpo umano è fondamentale per la nostra salute. Guai se non avessimo i batteri, se fossimo in condizioni gen free non riusciremmo neanche a digerire, non riusciremmo a sviluppare il corpo umano così come lo conosciamo ma guai anche se lasciamo prevalere i cattivi componenti della flora intestinale e li lasciamo superare la barriera mucosa e accendere eccessivamente il sistema immunitario che ne sta al di sotto.